Quando nascerà mio figlio spererò con tutto me stesso che sia un talento o in alternativa che sia cocciuto, che sia brillante o in alternativa che abbia una grande perseveranza. Poi se poteste scegliere, che cosa preferireste? Un figlio con un intuito innato o un figlio con una grande costanza, un figlio cocciuto con la testa dura? Quali sono le due differenze? Poniamo che esistano infinite ricette sbagliate per fare la pizza e soltanto una decina di ricette giuste per farla buona, quella filante, quella come si deve. Poniamo anche che Cappuccetto Rosso debba andare dalla nonna ed esistano cinque strade in cui incontra il lupo e due in cui non la incontra. Ecco, il talento ha la capacità innata di imboccare la strada giusta, il sentiero senza beccare il lupo, arrivare dalla nonna sano e salvo. Beccare fin da subito il giusto mix di ingredienti per fare la pizza buona, quella senza l'ananas, senza un eccessivo sforzo, eseguire subito la sequenza di mosse che porta il proprio piede a tirare e a fare gol sotto il 7, palleggiare all'infinito senza far cadere la palla, intonare un do a orecchio. Ecco, questa è l'attitudine del talento. Certo che però dall'altra parte un figlio che nasce senza talento è vero che sbaglierà continuamente strada, non vincerà sulla breve distanza, probabilmente verrà divorato una decina di volte dal lupo, ma se sopravviverà porterà con sé un bagaglio di esperienza tale che costituirà la sua conoscenza, la sua consapevolezza di sé. Allora non è mica facile scegliere, da una parte il talento, dalla parte la consapevolezza. Secondo voi, quale delle due virtù ha scelto l'essere umano inconsapevolmente nel suo percorso evolutivo? L'essere umano è Achille o è la tartaruga? L'essere umano è il bambino Mozart o è una sequoia secolare? È un lampo di genio o è la goccia che cade? Imperterrita. Dopo mesi e anni scava la roccia. Secondo me l'essere umano è intuito allo stato puro. L'essere umano è il fenomeno Ronaldo degli animali. Se esistesse l'animal's got talent l'essere umano svincerebbe sfoggiando la sua grande capacità, la caratteristica che lo rende unico, la capacità di prevedere il futuro, di presagire un evento, di unire i puntini in una sola parola, l'intelletto. 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 L'intelletto ci ha permesso di soggiogare fin da subito tutti gli altri esseri umani, di domare il fuoco poco per volta, inventare la ruota, inventare la rondata, il salto mortale avanti, il salto mortale all'indietro, l'oioio, il vestitino per cani, le scorregge sotto le ascelle, di dominare la tecnica e addomesticare le piante. Salire poco per volta in cima alla catena alimentare, in cima alla piramide animale. L'uomo è diventato il faraone d'Egitto e da qui c'è una vista incredibile, si vede ogni cosa, anche la signora in fondo, tutto. Con il cellulare che fa un video si può portatela via. L'uomo è qui, vede tutto. Certo che però l'equilibrio non è propriamente stabile. L'aria era refatta, un po' di attacchi di panico, non sono proprio fatto per stare quassù, scendiamo. Quali sono stati gli ingredienti e i processi grazie ai quali l'intelletto ci ha portato quassù? A tutti noi, no? Quassù. Allora mi sono detto, ok, proviamo a definirlo questo intelletto. Immaginiamoci l'intelletto come una grande sfera, ce l'avete qui, qui proprio così, come una grande sfera, ecco. Mi sono immaginato tre fasi. Fase 1, fase 2 e fase 3. Fase 1. L'essere umano nasce e senza dubbio la fase 1 è il dubbio, il punto interrogativo. Mariolino ha tre anni, ha malapena, sa camminare, non sa andare in bicicletta, sa parlare, si gira verso sua madre e le chiede perché? Cade una mela, Isacco la guarda e si chiede perché? Il sole scalda la parete, Margherita va, la tocca e si chiede perché? Calogeno viene colpito da un fulmine, è morto stecchito, Mariuccio lo guarda e gli dice perché? Gli altri animali non si chiedono perché, fanno e basta. Il gatto si pulisce leccandosi, se piace a lui, ma non si chiede perché? Il cane scodinzola quando è felice, ma non si chiede cosa ci sia dentro la sua coda. Il criceto va tutto il giorno sulla ruota, ma non sa neanche cosa sia la ruota. La curiosità, la curiosità ci ha permesso di prevedere il futuro, ci ha permesso di cercare di scoprire la verità, dandoci delle risposte, talvolta delle risposte semplicissime, altre volte complesse. Ecco che arriviamo alla seconda fase. Il punto esclamativo, l'essere umano si dà queste risposte e poi ci crede. Ci crede, ma non è che ci crede così alla leggera, cioè le fa diventare delle leggi, delle fedi, delle credenze e queste credenze non hanno nulla a che vedere con l'istinto degli animali che risponde alle leggi di natura. La devozione risponde alle leggi umane di chi suppone di avere una risposta e laddove inizia a girare questo circuito, mi chiedo e ci credo, mi chiedo e ci credo, mi chiedo e ci credo, arriva la terza fase, la più importante assoluta. Siete curiosi, eh? Siete esseri umani. Ecco, la terza fase, quando un essere umano non solo inizia a credere alle proprie risposte, ma tutti gli altri intorno a lui iniziano a crederci e ne mette una in fila all'altro in un ordine preciso, in un contesto specifico, ha inventato il gioco. E chiunque partecipi al gioco decide di seguire queste regole. E quando gioco esistono dei giocatori, esiste uno scopo, esistono dei premi, dei vincitori e degli sconfitti. E quando gioco vivo in funzione di un obiettivo, entro in una dimensione nella quale non mi accorgo neanche che tutti i giorni, ogni secondo io sto a certe regole, a certe credenze. Ma attenzione, queste regole, queste credenze, ce le siamo date noi, sono le risposte di prima. Facciamo qualche esempio. La scienza. La me la cade? Mi chiedo, perché la me la cade? Credo nel metodo analitico? Gioco. Società? Mi chiedo, perché condivido il mio tempo? Credo nel bene comune? Gioco. Mercato? Perché? Fatico tutti i giorni. Credo nel progresso? Gioco. Così l'uomo del medioevo combatteva le sue crociate per Dio, Socrate moriva bevendo la cicuta per un ideale, il soldato americano cadeva in Normandia a mille mila chilometri da casa, da solo al freddo, per la patria, per la libertà, per la democrazia. Così io non butto per terra la carta, la maestra non dice le parolacce e il ricercatore di Oxford passa tutta la sua vita davanti alla lavagna a cercare di risolvere un teorema. Così lei crede nella famiglia, lui crede nella proprietà privata, lui nelle criptovalute, ma niente di tutto questo è reale, niente di tutto questo è vero. Sono costrutti mentali che ci permettono di pensare al di là dell'esistente e giocare a rilancio. Il nonno di mio nonno aveva una bellissima mela che aveva raccolto e aveva paura di andare a dormire perché pensava se qualcuno entra qui di notte e me la mangia cosa faccio? Invento la prigione come pena esemplare per chiunque commetta un furto. Il mio trisavolo aveva una bellissima casa, una villa, anzi ma che dico una villa? Il mio trisavolo era il re. Invento l'eredità. Sulla base di ipotesi e congetture totalmente inventate abbiamo costruito un impero che si regge in piedi da secoli ma è una gigantesca bolla fatta di convenzione inossidabile, scritta nero su bianco, olio su tela, logo su capo, byte su silicio e ci viene da pensare reggerà? Ma chi se ne importa se reggerà? Il sistema mi chiedo credo gioco dell'intelletto ci ha permesso di vivere affrancandoci dalla morte, non pensare più di avere un senso, vivere più sicuri, non pensare più alla fame, non avere più sete, finalmente essere felici. In realtà non proprio essere felici, no, c'è qualcosa che non torna. Come ci siamo arrivati fin qua su? Quali sono stati i processi che ci hanno portato fin qua su? Forse che non mi sento ancora a mio agio. Come mai? Ecco, l'intelletto abbiamo detto che è una sfera. Facciamo un altro piccolo passo indietro. Questa sfera gigante a un certo punto partorisce due gemelli. È un tipo una pancia della mamma. Partorisce due gemelli. I giochi. I giochi di tipo 1 e i giochi di tipo 2. Da una parte abbiamo Romolo, da una parte abbiamo Remo, da una parte abbiamo Caino, dall'altra parte Abele. Ecco, i giochi di tipo 1 rispondono a una semplice regola. La legge del più forte. O schiacci o vieni schiacciato. Selezione naturale. Questi giochi vengono messi in pratica anche dagli altri animali, da millenni. Li usano per risolvere moltissimi problemi legati per esempio al fabbisogno energetico. Vedi lo squalo che mangia il pesce più piccolo perché ha fame. Oppure il leone nella savana che diventa il re assoluto. Almeno fino a quando non arriva il cacciatore. Ecco, questi tipi di giochi, i giochi di tipo 1, li chiamerei verticali. Che premiano chi vince e sudditano chi perde. Mettono più in alto chi detiene, più in basso chi rincorre oppure scappa. Più in alto chi può, più in basso chi spera. Ciò che contraddistingue per esempio il gioco dittatura, il gioco tirannia, ma anche il gioco scacchi, il gioco olimpiadi, il gioco Miss Italia, i giochi monoteismo, i voti a scuola. E poi il fratello gemello. I giochi di tipo 2. Sono un po' più giovani i giochi di tipo 2. Mi piace pensare che gli abbiano inventati i due uomini più scarsi in assoluto a giocare a questi. Cioè a un certo punto scarsi, scarsi come erano, stufi di perdere, si sono guardati e si sono detto. Erano proprio stufi, cioè i più stufi, i più scarsi. Senti, ma se invece di ammazzarci a vicenda collaborassimo? E lì inventano il gioco di tipo 2, ma non lo inventano, scoprono la legge che regola la vita da millenni, che va al di là del più forte e del più scarso, del sopra, del sotto, del prima e del dopo. I giochi secondo cui lavorando in squadra il talento del singolo viene enormemente amplificato secondo le leggi che gli scienziati chiamano proprietà emergenti. Ma cosa sono le proprietà emergenti? Me lo sono chiesto e quando l'ho scoperto sono letteralmente caduto dalla sedia. Boh, piatto per terra, ero diventato orizzontale, non riuscivo a capire. Le leggi delle proprietà emergenti ci dicono che le capacità sviluppate da un organismo saranno sempre maggiori delle cellule che lo compongono. Le capacità di una cellula sono largamente superiori di tutte le molecole che lo compongono e a loro volta le molecole hanno delle capacità che tutti gli atomi che le compongono non hanno. Così come la resistenza di una folta chioma è largamente superiore di quella di un singolo capello, quella di un ecosistema nella sua complessità è totalmente maggiore rispetto a una singola pianta. Ecco i giochi di tipo 2, i giochi orizzontali. Laddove nei giochi di tipo 1 il carburante era la competizione, il premio era la classifica, l'obiettivo era il benessere personale nei giochi di tipo 2. L'egoismo del singolo viene sostituito dalla potenza delle relazioni. Morse tua, vita mea, viene sbugiardato da una semplice operazione matematica, tanto semplice quanto folle. Zero più 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 zero. Alla fine fa uno e qui si apre un bivio. Da una parte la guerra per la sopravvivenza dove vince il più forte, dall'altra la collaborazione, la cooperazione dove vince la comunità. E questi due tipi di giochi si scontrano, questi due mondi si mischiano e da generazione a generazione gli uomini si scambiano i libretti di istruzioni dove c'è scritto le regole del gioco, qualcuno le cambia, qualcuno le modifica, si evolvono ma allo stesso tempo rimangono entrambi. Sia i giochi di tipo 1, quelli verticali, sia i giochi di tipo 2, quelli orizzontali. E voi direte, beh, ma non c'è storia, sono molto meglio i giochi orizzontali, a partire dal presupposto che non ci sia bisogno della violenza. Eppure, il nostro stesso corpo è un sistema gerarchico fondato su un capo che governa e gli arti che eseguono. Amiamo gli slogan, impossible is nothing, just do it. Amiamo le grandi imprese di singoli uomini che da soli hanno varcato il limite riscrivendo un pezzo di storia, Cristoforo Colombo, Elon Musk, Steve Jobs, Louis Armstrong, il musicista e anche l'astronauta. Cristiano Malgioglio, amiamo le scritte sui muri, le strade con i nostri nomi, le mani nel cemento a Hollywood, le statue di marmo, il museo delle cere. Finché su un palco ci sarà una sola persona che parla e cento che ascoltano ci sarà qualcosa che non torna. E' proprio questo sentimento devozionale a renderci tutti schiavi in un sistema ultracompetitivo che non solo premia chi vince ma lo idealizza. I perdenti non collaborano, faranno di tutto perché sono inorgogliti pur di far valere la propria forza rispetto a quelli in graduatore inferiore. E lo scopo diventa vincere su e non vincere con. Bisognerebbe fare cento, mille passi indietro per affrancarci dalla sedia e per affrancarci da tutte quelle credenze che ci hanno fatto credere appunto che l'esclusività sia uno status symbol, che il successo sia il mezzo per arrivare all'autodeterminazione, che la meritocrazia sia il luogo giusto per ritrovare e nutrire la fiducia di sé. Lo schiavo deve liberarsi del mito, il popolo può fare a meno delle icone, non deve passare tutta la vita ambendo a diventarle. Com'è stato sconfitto l'apartheid? Con un movimento di modelli di vita che non hanno deciso di diventare bianchi ma hanno fatto di tutto per inventare dei nuovi giochi, con nuovi ideali, nuove fedi, che gradualmente hanno abbassato il vertice della piramide rendendola una rete. Ecco il percorso perfetto, il percorso ideale, il mondo vegetale, ecco internet, la più grande invenzione che sia stata mai creata dall'essere umano. Non gerarchica, senza un inventore, non si sa chi ha inventato internet. Poi Ubuntu, il sistema operativo libero, open source, l'enciclopedia collettiva, Wikipedia, non so come si dica, che insieme a tanti altri giochi sommati di tipo orizzontale hanno contribuito ad abbassare queste piramide rendendole sempre più basse i piramidi globali. E allora gli influencer devono continuare in questa tendenza e devono cercare di avere sempre meno followers, i re ad avere sempre meno sudditi, i grandi eroi devono sembrare di volta in volta persone più normali, Superman, Greta Thunberg e a quel punto, a quel punto, a quel punto probabilmente quando nascerà mio figlio io spererò con tutto me stesso che non diventi un fenomeno, un talento, un genio. Spero che riconosca nella perseveranza, nella costanza un po' di conoscenza, di consapevolezza che lo porti a riconoscersi non come un singolo individuo sulla punta della piramide, sulla vetta della montagna, ma come parte integrante e imprescindibile di un tutto molto più grande di noi.